Giornata importante oggi per la tutela del lavoro. Si celebra infatti la giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, contemporaneamente alla giornata per le vittime dell'amianto. Per il dottor Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione e consulente della Commissione d'inchiesta del Senato sugli infortuni e malattie professionali, oggi l'amianto è il conto carissimo che si paga alla politica industriale retta dal profitto, all'edilizia senza scrupoli e alla voluta ignoranza scientifica sugli effetti dell'amianto che per decenni hanno retto l'economia di molti paesi e non soltanto del nostro. E sono circa 15.000 le persone che ogni anno perdono la vita in Europa a causa di patologie amianto correlate, mentre in Italia si registra una media annua di 2.400 morti, uno ogni tre ore, anche in Sicilia. E proprio nell'isola, sottolinea Giordano, vi sono grandi emergenze, Gela, Milazzo, Priolo, San Filippo del Mela, per citare i maggiori siti industriali dove l'amianto agisce tuttora in una sinergia micidiale con altre sostanze cancerogene adoperate e poi inalate da lavoratore e popolazione. E gli effetti sono tragici sulla procreazione sana, nascono infatti bimbi malformati, sull'ecosistema e sulla salute della collettività. E mentre passano gli anni a discutere sugli incentivi per la bonifica, l'esportazione dell'amianto per smaltimento e la riduzione e prevenzione dell'inquinamento ambientale in Sicilia, sottolinea ancora Giordano, manca ancora un impianto specifico per lo smaltimento, nel frattempo si continuano a contare i morti e bambini malformati.